E' un canto santo, un inno a Gesù. Tutto dipende da Dio. Tutto quello che vediamo, tutto quello che ci sta attorno è opera di Dio, della mano di Dio. Sì, questa è una tipica canzone nigeriana che cantiamo durante le funzioni. Noi arriviamo da Graz dove c'è questa nostra comunità nigeriana. Siamo venuti a Trieste per vedere, per sentire Papa Francesco proprio perché Trieste è vicino a Rosengratz dove c'è la nostra comunità. Siamo venuti a cantare. Siamo venuti a cantare. Siamo venuti a cantare. Siamo venuti a cantare. Siamo venuti a cantare.